The New Stories. La tua informazione libera. Un pastore che si trovava nei paraggi è stato testimone dell'aggressione e, insieme ad altri due passanti, ha tentato in vano di difendere la vittima, un uomo di mezza età ancora da identificare, munito solo di un bastone. Nonostante gli sforzi, l'intervento è stato vano e l'uomo è stato trovato con profonde ferite inferte dai cani in diverse parti del corpo, compreso il volto, il collo e le braccia. Al momento dell'arrivo del personale del 118, l'uomo era già deceduto a causa delle ferite riportate. Indossava abbigliamento sportivo, segno che stava svolgendo attività fisica nel bosco. Le autorità, tra cui i carabinieri di Manziana, la Guardia Parco, i carabinieri forestali e i veterinari, si sono mobilitati per rintracciare i tre Rottweiler, che si erano allontanati da un giardino di un'abitazione privata nelle vicinanze. Nella tarda mattinata, i cani sono stati localizzati, sedati e catturati dai veterinari e ora sono custoditi in un canile locale, in attesa delle decisioni delle autorità giudiziarie.